La SSC Napoli lavora alla cessione di Victor Ousimen. Nei giorni scorsi, fa sapere il portale Tutto Mercato Web.com, è arrivata un'offerta da 90 milioni di euro alla proprietà partenopea per l'attaccante nigeriano, entrata ufficialmente nel vivo la trattativa per il trasferimento al Paris Saint-Germain di Victor Ousimen. Il procuratore del centravanti nigeriano è volato a Parigi per trattare da vicino club club campione di Francia che deve sostituire Kylian Mbappé, ricevuto il no di Aurelio de Laurentiis per capare Izkelia, il PSG si è affiondato sul bomber nigeriano con una prima proposta da 90 milioni di euro. Troppo poco, il Napoli vuole una cifra quanto più vicina è possibile alla clausola da 130 milioni di euro, ma si ragiona in queste ore anche sulla possibilità di inserire delle contropartite. Non è facile, ma nemmeno da escludere. 90 milioni di euro per Victor Ousimen, il tempo stringe, il Napoli deve cedere l'attaccante per completare la squadra richiesta da Antonio Conte. Il sostituto Sara Romelu Lukaku.Al momento il club azzurro ha declinato la proposta di 90 milioni ma il tempo stringe e il Napoli ha bisogno di cedere il bomber nigeriano per poter concludere la programmazione della campagna acquisti estiva. Ousimen andrà via, al PSG, in Arabia o in Premier e il Napoli investirà parte della somma per acquistare Romelu Lukaku dal Chelsea.